Musica Erano 3000 stamane i podisti di tutte le età che hanno preso il via la seconda edizione della Family Run manifestazione podistica non competitiva di 4 chilometri che ha avuto luogo con ritrovo all'Isola dell'Unione dalle ore 9 e partenza alle 10 L'iniziativa, organizzata nel quadro di Venice Marathon avrà ulteriori sviluppi a San Donai e a Dolò nei due prossimi sabati mentre il 26 ottobre con l'arrivo al Parco San Giuliano di Mestre Oltre 1000 in più gli iscritti a partecipare rispetto all'anno scorso La Family Run ha unito ragazzi e genitori per l'ambiente e la solidarietà sociale Quest'anno infatti per la prima volta si è corso anche per dire stop alla polio mielite con il progetto del Rotary Club che ha griffato le magliette rosse distribuite ai partecipanti Inoltre il ricavato delle adesioni è stato destinato a favore del progetto Alex Zanardi Obiettivo 3 nato per favorire e sostenere l'avviamento dello sport degli atleti con disabilità avendo l'obiettivo di provare a qualificarne almeno 3 per le Paralimpiadi di Tokyo 2020 Il tracciato lagunare si è sviluppato lungo il bacino del Lusenzo interessando il corso del popolo, fondamenta San Francesco, la passeggiata Padoan, il ponte Baden-Powell via Sottomarina con la fondamenta lungo Laguna, il ponte Translagonare e di nuovo l'isola dell'Unione Lungo del tragitto è stata garantita la presenza della Polizia Locale, della Protezione Civile e i volontari dell'Associazione Sportiva Cavalli Marini oltre allo staff del Venice Marathon Club Tegolo è in vista per chi vorrà sposarsi con cerimonia civile nel territorio comunale di Chioggia all'esterno delle sale municipali dedicate Il nuovo regolamento approvato dal Consiglio Comunale l'11 settembre scorso ha istituito la possibilità di sedi differenti dalla casa comunale sia per i matrimoni con rito civile che per le unioni civili tra persone dello stesso sesso disciplina anche le tariffe che l'ente richiede a chi si sposa e a chi intende offrire il proprio palazzo o stabilimento balneare per la celebrazione Se fino al prossimo 31 dicembre resta in vigore la convenzione decennale tra il comune e il palazzo Goldoni il quale corrisponde annualmente alla somma di 500 euro alle pubbliche casse Entro i primi mesi del 2020 il dirigente dell'ufficio Stato Civile predisporrà gli atti necessari alla dilamazione di un avviso pubblico attraverso il quale i soggetti in possesso dei requisiti potranno iscriversi all'albo delle ubicazioni adibite a set matrimoniale Da quel momento i fidanzati che intenderanno sposarsi fuori dal municipio dovranno corrispondere a una cifra di 300 euro al comune mentre sulla location che volontariamente aderisce al progetto incombe un onere annuo di 500 euro oltre al conferimento di 100 euro per ogni matrimonio celebrato nella sede È presumibile peraltro pensare che poi i locali scelti dagli sposi scaricheranno su di essi i costi totali o parziali della gabella con gravami non alla portata di tutte le tasche Sono lieto di aver sostenuto questa causa fin dall'inizio afferma Beniamino Boscolo il consigliere che già nel 2015 e nel 2017 aveva promosso l'estensione della possibilità di sposarsi in città anche se l'amministrazione, dice Boscolo, si assume la responsabilità di questi inesperimento finanziario Anzi, inizialmente la maggioranza avrebbe voluto caricare fino a 1000 euro gli oneri matrimoniali valutando quanto accade in città consimili Per fortuna il gruppo del Movimento 5 Stelle è tornato sui propri passi ripristinando la quota di 500 euro annuale e 100 euro per ogni matrimonio a carico dello spazio e quella di 300 a capo degli sposi Il nuovo istituto aprirà probabilmente dalla prossima estate 2020 le porte a una serie di cerimonie lungo la rimile di sottomarina Dunque ieri abbiamo dato la notizia di quel salvataggio di quella bambina che aveva un corpo estraneo in gola e in bocca e avevamo precisato che un ragazzo di Chioggia che gioca nel vivo calcio era a corso e aveva fatto lui la manovra di disostruzione Invece questa mattina la madre ci ha chiamato e ha voluto precisare che non è stato il ragazzo ma una sua vicina di casa che era presente a conto che ha corso anche lei la signora si chiama Monica Zagolin ci dispiace dell'equivoco noi avevamo chiesto a più persone conferma di questa cosa una di queste è stato anche il padre del ragazzo che ci ha confermato che era stato il figlio a fare materialmente questa manovra ciò non toglie preciso che è stata la signora Monica Zagolin a cui facciamo i complimenti c'è da dire però che il ragazzo che era presente e era sul campo sportivo immediatamente è voluto correre per dare una mano e da quello che ci dice il padre comunque ha dato un po' di indicazioni come fare questa manovra di disostruzione le associazioni Kashmir e il Circolo Veneto dopo il successo delle precedenti due edizioni organizzano per domani domenica 6 ottobre la terza edizione del premio Chioggia Acquerelli in libertà come per la prima e seconda edizione il concorso è aperto a tutti senza limite di età, sesso, nazionalità e nel rispetto di qualsiasi partecipante le opere per presenziare dovranno essere eseguite con la sola tecnica dell'acquerello e ogni artista potrà partecipare con un'opera la cui misura non dovrà superare 40x50 cm l'iscrizione al premio è gratuita ci si può iscrivere domenica stessa dalle ore 10 alle 12 all'info point a fianco dell'ex colonia Turati all'angolo tra il lungomare via San Felice a Sottomarina già hanno annunciato la propria presenza pittori provenienti da tutte le province venete dalla Lombardia e dall'Emilia Romagna la premiazione delle opere verrà domani dalle ore 17.30 alla Darsena Porto San Felice e fino a metà novembre le opere saranno esposte prima alla Casa del Glicine in Calletta Cipriotto a Chioggia poi nella Bacheca del Municipio quest'anno dopo aver scelto come location per due anni consecutivi il centro storico di Chioggia gli organizzatori hanno pensato di valorizzare il centro storico di Sottomarina includendo il paesaggio mozzafiato della laguna vista dall'Usenzo il valore storico ambientale di Forte San Felice l'imponente struttura di difesa della diga la bellezza della spiaggia e del mare e l'importanza storico-turistica dei murazzi il tema infatti è Clodia Minor storie tra mare e laguna auspicando il coinvolgimento di artisti locali e forestieri alla scoperta della vecchia Sottomarina e l'imponente struttura di un'imponente 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 struttura di un'impon